Il fratello, la vedova, l'amante, la figlia. Un quadretto niente male. Forse è per questo che non vogliono autorizzare una biografia. Era partito per ottenere le risposte che dovevano cambiare la sua vita. Era un no definitivo il nostro. È per questo che sono qui. La mia decisione è presa e non è affrettata. E Arden è dalla mia parte. Siamo due contro uno, Adam. Rifiuto di essere guidato da una cosa stupida come la democrazia. Risposte che si credevano perdute nel tempo. Cosa devo questo piacere? Adam, tu credi che io abbia sbagliato a rimanere qui? Io non ti ho giudicata. Era una faccenda tua e di Jules. Sono dalla sua parte. Davvero? Ma a che ti serve, Omar? Io ho quei gioielli e vorrei il suo aiuto per portarli in America e venderli. Risposte che avrebbero cambiato le vite di tutti. Tu hai solo paura che se resti cambierai idea. Ho paura che se resto diventerò pazza. Vivo con te da 25 anni. Non voglio nessun'altra vita. Ero venuto qui per scrivere un certo libro e ora si sta trasformando in qualcosa di diverso. Come fa un estraneo a capire questo posto? O a capire le nostre vite insieme? Il premio Oscar Anthony Hopkins. Cocktail. Che bella parola. La palma d'oro Charlotte Gainsbourg. Vai ora. La candidata all'Oscar, Laura Linney. Tentare ma fallire. Non c'è niente di ignobile in questo. Omar Matt Wally. Sapevo solo di dover fare qualcosa. Da regista di Camera con Vista e Casa Howard. Mi è sempre piaciuto questo fazzoletto. Dovevo essere molto felice. Perché sennò comprare una cosa così bella? Quella sera dorata. Da ottobre al cinema.